Antonio Salinas è stato un archeologo, fu educato già da giovane a severi metodi di ricerca, nel 1856 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza della regia Università degli Studi di Palermo. Dopo lo sbarco a Marsala di Garibaldi si arrollò nell'esercito meridionale e il 13 luglio del 1860 fu nominato sottotenente d'artiglieria. Nel 1862 per un anno ebbe la possibilità di completare la sua formazione all'università di Berlino seguendo i corsi dell'archeologo Gerald, dopo lunghi viaggi di studio da Vienna ad Atene dove partecipò alla prima campagna di scavi della missione italiana nella necropoli del ceramico fino a Parigi. Tornò in Italia dove nel 1865, a solo 24 anni, fu nominato professore straordinario di archeologia dell'Università di Palermo dove introdusse il metodo scientifico tedesco. Partecipò agli scavi che si effettuavano in quel periodo in Sicilia come Mozia, Tindari e Selenunte dove rinvenne quattro metope archiaiche che trasferì al Museo Nazionale di Palermo che diresse per 40 anni fino al 1914. Nel 1907 fu nominato sovraintendente per le province di Trapani, Palermo e Girgenti e Messina. A lui si devono il ritrovamento di tante opere d'arte che recuperò dopo il terremoto di Messina del 1908. Fu eletto socio nazionale dell'Accademia dei Lincei nel 1908. A Salinas è intitolato il Museo archeologico regionale di Palermo che a cent'anni dalla sua morte nel 2014 gli ha dedicato una mostra celebrativa. A Salinas è intitolato il Museo Nazionale di Palermo